Benvenuti a Zoom, l'approfondimento a cura della redazione giornalistica di Sesta Rete. Le numerose iniziative che avranno luogo nel 2011 in occasione dell'Anno della Cultura e Lingua Russa in Italia e della Cultura e Lingua Italiana in Russia hanno avuto un preludio a Firenze, dove alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti si tiene la mostra dall'icona Malevich, capolavori dal Museo Russo di San Pietroburgo. La mostra è promossa dal Ministro della Cultura della Federazione Russa con il Museo Russo di San Pietroburgo e dal Ministro per i beni e l'attività culturali italiano con la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico e etno-antropologico e per il Polo Museale della città di Firenze e la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti ed è stata realizzata con il contributo dello sponsor unico Morgan Stanley. La città di Firenze L'Andito degli Angiolini ospita una selezione di 40 dipinti provenienti dal prestigioso Museo Russo, un numero dimensionato agli spazi non vasti ma seducenti di questi ambienti lorenesi e scelto in modo da offrire un affascinante percorso dell'arte russa dall'epoca delle icone fino alle avanguardie del primo novecento. Dalla collezione di icone, imponente per numero, è stato intenzionalmente selezionato un unico pezzo il Cristo in trono fra le potenze del XVI secolo dato che le icone sono forse l'espressione artistica dell'arte russa più nota in Europa si è inteso dedicare maggior spazio all'arte del XVIII e XX secolo. Fu il settecento infatti l'epoca in cui l'arte russa inaugurò e maturò uno stile moderno, al riguardo la mostra include due dipinti dell'inizio del settecento nei quali si evidenzia il graduale distacco dalla tradizione pittorica delle icone e l'apertura alla tipologia figurativa europea. Nella prima metà dell'Ottocento molti artisti russi si recarono in Italia per lunghi periodi alla fine di perfezionarsi nell'arte e alcuni di loro eseguirono anche diverse opere su commissione italiana. Nella prima metà dell'Ottocento molti artistica dell'Ottocento Nella prima metà dell'Ottocento l'Ottocento Nella prima metà dell'Ottocento Nella prima metà dell'Ottocento Nella prima metà dell'Ottocento I rapporti dei maestri russi con l'Italia nella prima metà del XIX secolo erano così intensi che alcuni finirono per sposare donne italiane, mentre altri trovarono in questo paese gli amici più cari. L'Italia fu quindi estremamente importante per gli artisti della prima metà del XIX secolo che nella Russia di allora non potevano godere di libertà d'espressione artistica e per la maggior parte erano costretti a lavorare solo per una committenza ecclesiastica. La prima metà del XIX secolo 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 La prima metà del XIX secolo